Poc'anzi si è conclusa la riunione presso Confindustria con i colleghi della GGL e della CISD e abbiamo scongiurato lo sciopero di 72 ore dei lavoratori portuali, circa 500 lavoratori. Ma cosa c'era al centro di questa vertenza? Al centro di questa vertenza c'è il fatto che l'armamento tutto, tutte le società di navigazione vorrebbero applicare l'autoproduzione. Cosa è l'autoproduzione? È che il marittimo imbarcato a bordo dovrebbe fare il rizzaggio e il rizzaggio, quello che non è possibile e quindi annullerebbe quelle che sono la forza lavoro dei portuali e questi sono a rischio 500 posti di lavoro, ecco perché abbiamo indetto lo sciopero di 72 ore in tutta la Sicilia dei lavoratori portuali. Rizzaggio e derizzaggio cosa significa? Rizzaggio e derizzaggio significa che questo lavoro che al momento lo svolgono i lavoratori portuali, in questo caso con l'autoproduzione, lo farebbero i marittimi e quindi ci sarebbe un problema per quanto riguarda anche le tabelle di armamento in quanto l'organico dovrebbe essere rafforzato affinché il marittimo abbia i tempi anche di riposo e non va a rizzare e deserizzare i mezzi che imbarcano sui porti siciliani. Ovviamente rizzare e derizzare per non addetti significa che vanno messe le catene e i mezzi pesanti dei mezzi che imbarcano a bordo sulle navi, questo è derizzare e derizzare. Quindi c'è questo lavoro, come dicevo poc'anzi, che dovrebbero fare i portuali e lo farebbero i marittimi e questo in questo caso metterebbe a terra 500 lavoratori. Questa è la nostra preoccupazione, ecco perché 72 ore di sciopero. Sciopero diciamo scampato ma avrete un nuovo incontro? Assolutamente sì, l'incontro riprenderà l'8 di maggio affinché questa criticità, questa problematica possa concludersi con esito positivo. Da parte dell'azienda c'è questa disponibilità, il sindacato è disponibile a chiudere affinché veramente non ci sia un ricaduto occupazionale nel settore e che i lavoratori portuali possono avere quella stabilità mentale, quella certezza del posto di lavoro oltre alla sicurezza che non è cosa da poco.